Io sono Marco Bongi, il presidente dell'Associazione Pro Retinopatici Provedenti. La nostra associazione è nata nel 1990 e da allora si è costantemente ampliata occupandosi di tutto ciò che concerne a tutto tondo la disabilità visiva. L'ipovisione è un pianeta inesplorato, ci sono tanti modi di vedere male, ma ci sono tantissime problematiche che si possono mescolare in modo vario fra di loro. Spero che attraverso questo lavoro possa in qualche modo crescere la consapevolezza su questi problemi. E l'Associazione possa in qualche modo fungere da punto di riferimento per tutti coloro che vivono quotidianamente queste problematiche. Certo, abbiamo già detto che questi tipi di patologie geneticamente trasmesse non hanno ad oggi una terapia, ma i continui progressi nella genetica e lo sviluppo di nuove tecnologie elettroniche ci danno la speranza che la situazione possa in breve tempo essere completamente diversa. Grazie a tutti! Grazie a tutti!